per l'intera community sicuramente una grande soddisfazione da parte di tutti va bene signori io faccio qualche minuto di pausa e torno con voi e torno con voi pensate un pochettino ragazzi a fare che cosa a fare che cosa ha con un gioco proprio per Mirko Papella che per fortuna è tornato quindi adesso dobbiamo solamente aspettare il ritorno di Alessandro Arcangeli con le sue news e col suo carrettino delle notizie praticamente col pantaloncino corto anche d'inverno e voi sapete che sotto il pantaloncino spesso non c'è niente va bene ragazzi buona serata la community di unity la community unity dove ogni volta che fai un gioco di unity devi pagare ogni volta che viene scaricato un gioco di unity ovviamente venendo comprato devi pagare una cosa incredibile dobbiamo dire la verità le newsletter di Alessandino più che newsletter di Alessandino guarda guarda la testa come gli salta a lui e buon Natale buon Natale ma in realtà ancora presto Mirko Papella siamo al 20 di autunno praticamente guarda qua li tenevi li hai mai visti i soldati di doom che ti combattono questo perché perché solo sul canale del giocherellone puoi vedere questi giochi spettacolari carissimo carissimo Mirko Papella non l'avevi mai visti questi personaggi vedi quando lo uccidi gli fai saltare la testa è assurdo e non l'avevi mai visto e questa è la prima volta questo grande mi sono registrato sul forum di unity ogni giorno faccio un post chiedendo cosa ne penso la questione del giocherellone la questione del giocherellone la questione della signora praticamente la questione della signora è stata una delle questioni che nei mesi negli ultimi mesi veramente è stata diciamo più ferma sul canale guarda queste teste di morto e guarda al centro che cosa c'è mamma mia fa paura questo gioco il laser il laser gate il laser gate va bene signori io faccio 5 minuti di pausa e vi porto un gioco dedicato a Mirko Papella un gioco che lui adora un gioco che lui non sa che gli dedicherò ma che gli dedicherò pensato un pochettino quindi ringrazio tutti soprattutto te che stai guardando e che non è iscritto ma lo so che stai guardando grazie di avermi guardato la canzone della signora mentre guidi con la melodia di ghostbuster è stata top ah sì quella signora quella canzone che hai fatto paper boy quello col pantaloncino corto paper boy con la signora praticamente pape alessandro arcangeli il gioco di alessandro arcangeli in bicicletta col pantaloncino corto senza ovviamente slip sotto perché così fa diciamoci la verità mentre canta la canzone della signora papà papà era è arrivata la signora la signora e ragazzi che risate che risate con la canzone va bene ragazzi dedichiamo il prossimo guardate che demone questo demone gigante non l'avete mai visto vedete un pochettino questo demone gigante perché questo è un episodio di doom forse il penultimo grande mod di doom che è stato fatto che nemmeno Mirko Papella conosce incredibile va bene nefeso lo spec funesto addirittura bocca aperta non ve l'ho mai voluto dire vi svelo che il gioco alessandrino l'ho fatto e paper boy e paper boy ma è paper boy anche con quale versione ovviamente quando cammina voglio fortnite cara gianna mincione caro 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 giovanni fortnite arriva stasera in una live molto molto lunga pensa un pochettino efeso assurdo le live dove non ci sono durano cinque minuti quando ci siamo il carazzo durano 45 minuti ma è bello perché si parla è bello perché sicuramente si è tra si è tra persone adulte mature che amano anche scherzare amano scherzare anche su quella che è la vita senza alcun ombra di dubbio eravamo anche un po tutti tristi che te ne fossi andato non te lo nascondo non te lo nascondo e però adesso che sei tornato sicuramente sicuramente possiamo divertirci soprattutto con i nuovi titoli con i nuovi titoli di che cosa di questo autunno e di questo inverno che saranno dei videogiochi verrete fantastica fantastica mi sono mai andato ricorda lo so che non te ne siamo andato non te ne sei mai andato ma non è più scritto con la sembra di del white wishing non so che nemmeno cosa si aveva la tua foto sul comodo avevi la tua foto sul comodino ma anche beh e che cosa ci facevi con quella foto ecco qua la pigliavi prima di addormentarti non so che cosa facevi ecco qua ecco qua dobbiamo dire la verità dobbiamo dire la verità ragazzi col mirco vapella ragazzi i cinque minuti di pausa arrivano tra poco e porto il gioco per mirchetto che è tornato mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto il ritorno di mirco vapello condividete commentate abbonatevi fate tutto quello che vi fa più piacere e ovviamente salutate anche voi mirco vapella casomai su un video con una video dedica con un commento anche con una foto praticamente ci davo il bacino per addormentare molto tenero e quando andavo in bagno che facevo cose sozzosiele facevi cose sozzosiele con marco carnevale intanto che chattavi chattavi con lui ma guardavi la mia foto ragazzi è assurdo ragazzi i cinque minuti di pausa e preparate per il gioco mirco pappella a tra poco ciao ciao mirco ciao mirco e bentornato mirco pappella sei tornato e finalmente adesso tu vai stimolato ciao